ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video il primo video del 2020 allora questo video parleremo dell'argomento che abbiamo parlato il video precedente ossia l'accensione del b1 come frequenza 4g a iliad e dello spegnimento della b1 sulla rete wind 3 momentaneo allora le prime notizie che avevo dato immediatamente quando le ho ricevute riguardo la b1 nel video precedente vi avevo detto che soltanto un paio di settimane e poi wind 3 avrebbe riacceso la b1 sulle proprie antenne adesso invece la situazione è leggermente diversa nel senso che quindi 3 vi confermo che ha spento la b1 su tutte le antenne in italia questo perché ripilogando allora iliad ha tramite un accordo con wind 3 preso i 5 megahertz della frequenza spettante a wind 3 per inserirla nel nelle sue nelle sue antenne quindi oltre avere la b3 e la b7 avremo anche la b1 allora wind 3 per poter fare questo tipo di operazione ha dovuto spegnere la b1 perché poi dovrà tramite un accordo con team recuperare quei 5 megahertz e metterli nuovamente a disposizione della sua larghezza di banda per fare questa operazione ovviamente bisogna operare su tutte le antenne e prima cedere quindi spegnere la b1 come ha spento nel frattempo iliad dovrebbe cominciare ad attivarla su tutte le sue antenne non vi so dire che tempi ci possono essere perché non li conosco non li posso sapere al momento vi posso dire che non è stata attivata da nessuna parte la b1 dopo questo dopo lo spegnimento da parte di wind 3 della b1 che è arrivato a livello totale nazionale il ripristino della frequenza b1 sulle antenne di wind 3 avverrà entro fine febbraio quindi significa che a fine febbraio verranno riattivate dopo che vi sarà fatto sarà fatto questo diciamo questo aggiornamento tecnico di passaggio di frequenze tra questi tre operatori l'accensione è praticamente di iliad della b1 potrebbe essere immediata perché avendo spento 23 la b1 da subito disponibilità di quei cinque makers a iliad però iliad ancora non ha cominciato a muoversi almeno sin adesso non ci sono state accensioni della b1 ritornerà la frequenza la b1 quindi su wind 3 entro la fine di febbraio quindi nella maggior parte delle antenne quelle più complete che sono poi la maggioranza per adesso wind 3 a la b7 da b3 e la b20 quindi manca la b1 quindi si potrebbero sentire dei diciamo dei riflessi per quanto riguarda la velocità di punta dei in download e in upload infatti già i primi spirit test che mi sono arrivati sono più bassi in varie zone tantissimi amici che seguono il canale me nemmeno mandano e già si vedono che sono più bassi quindi siamo a gennaio bisogna appasentare due mesi intanto poi vi darò altre notizie quando iliad comincerà ad attivare ciò che ha implementato quindi quindi la b1 questi famosissimi 5 makers che potrebbero aiutarla a raggiungere una un servizio in specialmente in velocità in download e upload migliore di quello che per adesso è registrato in italia che è piuttosto scadente io vi ricordo che sono presente su instagram all'indirizzo giuseppe trattino basso operatori trattino basso mobili e ho anche l'indirizzo mail aperto per tutti voi che operatori punto mobili chiocciolatiscali punto it io vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei video vi raccomando quando cliccate la campanellina scegliete l'opzione aggiornamenti sempre quindi sempre aggiornati sulle uscite di ogni video vi ringrazio per l'attenzione mettete qualche like se vi sono simpatico e seguite il mio canale e vi ringrazio per l'attenzione nuovamente e alla prossima un abbraccio e un saluto al giuseppe e buon anno